ciao lettrici e lettori e benvenuti oppure bentornati qui sul mio canale è il momento di cominciare a parlare delle letture del mese di luglio vi racconto le letture della prima metà del mese così poi suddivido insomma come sempre le letture in due e ho modo di raccontarvi un po' in maniera approfondita le varie letture in questo video vi parlerò di quattro libri ne ho letti tre in cartaceo e uno in ebook comincio da quello che mi sono portata dietro da giugno perché era una lettura che avevo intenzione di fare a giugno e ve l'ho anche detto nel wrap up della lettura delle letture di giugno quindi se vi ricordate vi avevo già promesso che avrei parlato di questo libro si tratta di se la strada potesse parlare di james baldwin voi sapete che questo autore io lo porto veramente nel cuore questo è il suo tredicesimo libro pubblicato quindi comunque arriva già dopo un bel po' di pubblicazioni lo so perché la postfazione di questo libro è a cura di joyce carol e quindi l'ho letta religiosamente dopo aver finito il libro e si cita il fatto che questo appunto è il tredicesimo libro dell'autore scritto a metà degli anni 70 è un romanzo quindi sono di nuovo tornata alla fiction nonostante io possiedo anche dei libri di saggistica di questo autore che voglio approcciare quanto prima e questa è la storia di due ragazzi molto giovani tish e fonni la storia si apre già nel pieno del diciamo dell'azione nel senso che conosciamo tish che è la voce narrante di questo romanzo che è una diciannovenne che va a trovare il suo fidanzato fonni in prigione scopriremo poi che fonni è stato accusato di stupro ma come spesso accadeva nel periodo in cui è stato appunto scritto questo romanzo nel mi sembra si chiami confronto all'americana quello in cui un testimone ad un testimone si chiede di identificare il sospettato in queste situazioni veniva solo inclusa una persona nera e quindi tendenzialmente se anche chi aveva commesso il crimine era nero il testimone in maniera quasi automatica veniva portato a identificare la prima persona che gli sembrava assomigliasse a quella che aveva visto e questo è ciò che succede a fonni viene portato in questo confronto in questo riconoscimento del colpevole sebbene sia completamente innocente e viene riconosciuto con molte virgolette da questa donna appunto portoricana che aveva subito una violenza e quindi viene portato in carcere questo libro racconta principalmente la lotta di tisch e della sua famiglia e per sua famiglia intendo la famiglia di tisch per la verità la famiglia di fonni si distacca quasi completamente a parte il padre da tutta questa situazione le sorelle non sono interessate a lottare per la verità la madre è una fervente religiosa che si è completamente distaccata dal figlio e dalle problematiche del figlio e quindi sarà tisch con la sua famiglia a pagare un avvocato a cercare di lottare per la verità e seguiamo appunto il racconto di questa incredibile lotta di questa ragazza così caparbia di 19 anni che cerca di scagionare l'uomo che ama in tutto questo ho appena controllato viene detto tipo alla terza riga della sinossi tisch aspetta un figlio da fonni quindi insomma c'è anche questo elemento in più e io l'ho trovata una storia struggente e bellissima di lotta per la verità di tenacia e appunto di amore allo stato più puro è un romanzo veramente molto struggente perché pur essendo un romanzo di fiction racconta la storia di molti in quegli anni si racconta anche in alcuni flashback di come i poliziotti trattassero in maniera molto diversa i neri dai bianchi e quindi riesce un po' a raccontare uno spaccato della vita negli anni 90 a New York per una coppia di giovani ragazzi neri appunto molto struggente perché pur essendo un romanzo in realtà si rifà a tutta una serie di situazioni assolutamente vere e reali di quegli anni e quindi James Baldwin sa raccontare sempre con lucidità e però allo stesso tempo in maniera molto coinvolta queste questo tipo di storie quindi un altro romanzo di James Baldwin che ho amato tantissimo una lettura dolorosissima ma anche qui mi viene da dire necessaria poi come vi avevo accennato insomma nel mese di luglio all'inizio del mese ho fatto un soggiorno non preventivato in ospedale mi ero portata dietro se la strada potesse parlare però non in tutti i momenti riuscivo a leggere e non in tutti i momenti avevo voglia di quella lettura e quindi in maniera del tutto inaspettata e non programmata ho deciso di leggere Anna dai capelli rossi di Lucy Maud Montgomery che sostava nel mio kindle da un po' l'avevo messo in un sacco di sfide di lettura tbr a destra e manca e quindi ho pensato fosse il momento giusto per leggerlo e è stato assolutamente così è un libro che mi ha tenuto compagnia non è ovviamente difficile da leggere quindi comunque è stato rilassante in quei giorni la storia è quella di una giovane orfana di 11 anni che un po' per errore viene adottata da questa coppia fratello sorella ormai insomma in là con gli anni loro cercavano un ragazzo che li aiutasse nella fattoria che gestiscono e per una serie di vicissitudini invece arriva Anna all'inizio soprattutto la la sorella vorrebbe riportarla indietro ma quando si rende conto di che vita difficile abbia avuto Anna ma anche di quanto sia brillante spiritosa intelligente e di quanto possa portare un raggio di sole nelle loro vite decide di farla rimanere con loro quindi noi seguiamo gli anni della crescita di Anna dagli 11 fin verso i 16 17 anni e la vediamo letteralmente sbocciare quando arriva a Green Gables quindi Anna di Tetti Verdi mi sembra sia la traduzione italiana nella versione che ho letto io si chiama Green Gables la fattoria Anna parla raffica è sbadata ha sempre la testa fra le nuvole sta sempre inventando qualche storia e la vediamo nel corso degli anni maturare cambiare crescere calmarsi un pochino e diventare una giovane donna piena di buon senso di empatia di buoni sentimenti nei confronti degli altri anche quando poi insomma la vita le presenta delle sfide ulteriori rispetto a quelle che aveva già vissuto da ragazzina Anna saprà gestirle con appunto tantissimo buon senso molta empatia è un romanzo delizioso è ambientato sull'isola del principe Edoardo in Canada e si racconta il cambio delle stagioni in maniera meravigliosa è un romanzo che sembra quasi un acquerello per quanti colori fiori alberi frutti vengono descritti ed è proprio una gioia per gli occhi per il cuore mentre lo si legge l'ho trovato veramente adorabile sono felicissima di aver deciso di leggerlo in quel momento perché è stata veramente un'ottima compagnia e anche proprio un diversivo notevole per fortuna avevo trovato degli altri titoli della stessa serie in offerta ebook quindi dovrei avere sicuramente il secondo e il terzo andrò avanti perché sono molto curiosa poi di vedere gli anni successivi a quelli raccontati in questo primo romanzo poi quando sono tornata a casa avevo bisogno di qualcosa di totalmente immersivo e sono felice di averlo trovato nella lettura di Blizzard di Marie Wintra questo lo avete visto nel video di romanzi.it edizioni cliché l'ultima box che mi è arrivata vi lascio qui sotto il link affiliato per acquistare qualsiasi cosa vogliate sul sito di romanzi.it e il mio codice sconto Blizzard mi dava l'idea di essere il libro più nelle mie corde in quella box sono curiosa di vedere se sarà così perché leggerò ovviamente a breve anche gli altri ma nel momento in cui avevo bisogno di intrattenimento immergermi in un libro qualcosa che mi fagocitasse completamente questo qui è stato perfetto mi era un po' fatta un'idea di come fosse in realtà no mi sbagliavo è molto diverso da quello che mi aspettassi ma mi è piaciuto tantissimo la storia è quella di una ragazza che si chiama Bess che durante una tempesta di neve perde letteralmente di vista da un momento all'altro il bambino del quale si doveva occupare e da qui appunto parte la ricerca di Bess ma anche la ricerca di una serie di altri personaggi che conosciamo nel corso della narrazione principalmente tre uomini Benedict che ha un legame con il bambino Cole che è un uomo dalle vedute piuttosto discutibili mettiamola così appunto che fa parte di questo paesino in Alaska dove è ambientata la storia e poi c'è Freeman che è un uomo dal passato un po' misterioso un veterano del Vietnam che si è trasferito in tarda età in questo paesino e ci viene raccontato poi il retroscena di questa decisione nel corso del romanzo perché dico che mi aspettavo qualcosa di diverso perché pensavo più ad un romanzo corale in cui il paese si mobilitava per trovare questo bambino invece in realtà ci si concentra su questi personaggi principali ma si scava molto nel loro vissuto nel loro passato e questa cosa mi è piaciuta tantissimo perché poi ovviamente ci sono i segreti i non detti le cose che nessuno sapeva e che vengono a galla quindi da due punti di vista molto avvincente da un lato per la storia in sé quindi questa sorta di corsa contro il tempo in questa tempesta di neve per ritrovare il bambino che si è perso ma dall'altro è avvincente perché il racconto di queste storie di questi passati così complicati di questi vissuti così traumatici a volte vi tiene praticamente incollati alle pagine quindi c'è un duplice aspetto proprio di interesse nei confronti della trama e del racconto e in più molti dei capitoli sono molto molto brevi due o tre pagine al massimo per ogni capitolo a parte qualcuno un po più lungo e quindi c'è questo costante cambio di voce e di punto di vista che rende proprio la lettura veramente molto molto avvincente e ritmata io dal venerdì che ho iniziato a leggerlo l'ho finito di domenica non riuscivo veramente a staccarmi da questo libro perché appunto questo doppio aspetto di azione ma anche dello scavo psicologico nella vita dei personaggi mi ha veramente tenuta incollata quindi non so dire se sarà la lettura più bella delle tre di romanzi.it ma era quello che sicuramente avevo individuato subito come il primo che volevo leggere infine ho letto un libro che era sia nella mia TBR di questo mese ma anche nella mia TBR estiva che è La vagabile Rachel di Caroline O'Donohue. Questo libro mi è piaciuto infinitamente più di quanto mi sarei mai aspettata è un libro ambientato in Irlanda, seguiamo le vicende di Rachel appunto la protagonista di cui si parla anche nel titolo e James che è il suo coinquilino che sono due ventenni, lei studia all'università e entrambi lavorano nella stessa libreria ed è così che si incontrano e seguiamo un po' le loro vicissitudini soprattutto amorose e lavorative in questi anni così cruciali della loro giovinezza. Il motivo per cui mi è piaciuto da morire è che i personaggi sono estremamente veri, reali in tutte le loro sfaccettature più belle e più brutte vengono raccontati negli aspetti più empatici e generosi del loro carattere ma allo stesso tempo vengono raccontati negli aspetti più meschini e questo mi è piaciuto molto perché secondo me uno dei messaggi che questo libro trasmette molto bene è che si può essere delle brave persone e fare degli errori e fare qualcosa di meschino perché le circostanze ti portano a farlo. E non si è solo bianchi e neri, non si è solo buoni o cattivi non si è solo bravi o meno bravi, è veramente un libro in cui i personaggi sono potenzialmente tuoi amici sono potenzialmente le persone con cui hai fatto festa durante l'università hai passato dei pomeriggi a bere un caffè quando eri più grande sono estremamente reali e ho amato tantissimo questa qualità dell'autrice che è riuscita veramente a raccontare in maniera precisa tutti gli aspetti appunto più belli, positivi, generosi di questi personaggi ma anche tutti quelli più negativi ed è risultata secondo me convincente in entrambi i casi in questo libro tra l'altro da un certo punto in poi si tocca anche un argomento molto importante e molto serio che è il diritto all'aborto in Irlanda e il fatto che ci sia stato un referendum solo in anni recentissimi in Irlanda per il diritto all'aborto prima le donne che volevano abortire per un qualsiasi motivo dovevano andare in Inghilterra e quindi si racconta anche l'esperienza di queste donne le spese che erano costrette ad affrontare, la vergogna, lo stigma da questo punto di vista mi ha colpito molto perché non immaginavo che fosse un libro che portava sul tavolo delle riflessioni così importanti sapevo che parlava di amicizie, di amore, di relazioni a vent'anni, a trent'anni ma non immaginavo che ci sarebbe stata questa svolta così importante anche su tematiche di un certo tipo quindi l'ho doppiamente apprezzato per questo motivo perché comunque la prima metà diciamo che è un po' più leggera appunto perché racconta la quotidianità di questi due coinquilini ventenni e le loro relazioni, la costante mancanza di soldi, gli alti e bassi della loro vita ma sempre connotate da questa amicizia fortissima e poi però in realtà col passare del tempo vengono veramente inseriti degli argomenti importanti e anche molto profondi che non restano mai in superficie devo dire tutto il discorso che si fa sull'aborto in Irlanda viene approfondito molto da vari punti di vista e quindi secondo me veramente ci troviamo di fronte ad un bel romanzo che coniuga sia un racconto un po' diciamo alla Sally Rooney o Dolly Alderton qui viene citata Dolly Alderton nelle suggestioni che NN dà sul retro del romanzo e Dolly Alderton viene anche ringraziata dall'autrice nei ringraziamenti del romanzo quindi c'è un po' questo aspetto così appunto di riflessioni sull'amore, sulle relazioni a vent'anni ma poi in realtà ci si addentra in tematiche più importanti e più profonde quindi l'ho veramente amato moltissimo gli ho dato 4 stelle e mezzo alla fine perché veramente mi ha coinvolta e colpita tantissimo ed è uno di quei romanzi che quando ho chiuso l'ultima pagina mi dispiaceva così tanto di aver abbandonato i protagonisti che mi veniva da desiderare che non finisse più sul finale veramente le ultime pagine le ho lette con il cuore spezzato perché non volevo che finisse non volevo salutare questi personaggi consigliatissimo appunto se magari avete già letto e amato autrici come Sally Rooney e Dolly Alderton perché secondo me aggiunge anche addirittura qualcosa in più questi erano i primi 4 libri che ho letto nel corso del mese di luglio fatemi sapere se ne avete letto qualcuno fatemi sapere cosa avete letto voi nella prima metà di luglio se ci sono state letture degne di nota io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me oggi per il vostro tempo, il vostro affetto e noi, se vi va, ci vediamo nella seconda parte del wrap up ciao ciao